Finisce così con un blocco stradale, conseguenze pesanti sul traffico cittadino in via Roma in modo particolare, la protesta dei ristoratori salernitani che sotto i portici di Palazzo di Città hanno chiesto di incontrare i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Salerno. L'iniziativa era iniziata in modo pacifico, silenzioso ma eloquente, impiazzamentola dalle 11 nell'area che strategicamente include l'affaccio sia della prefettura di Salerno che del comune, era iniziata la iniziativa promossa dall'ACS, l'Associazione dei Commercianti Salernitani, più di 100 i rappresentanti della categoria che hanno implorato attenzione e risposta ad autorità e istituzioni stanchi di essere considerati giuntori e di primi da chiudere subito senza garantire adeguati sostegni economici. L'annullamento della chiusura alle 23 rimuovere il divieto di vendita per asporto dopo le 21, una richiesta di maggiori controlli strada dove si concentrano i veri assembramenti di persone. Sono alcune delle proposte avanzate nel documento presentato questa mattina durante il flash mob promosso in piazza Mendola. Presente tra i ristoratori anche un infettivologo che con numeri alla mano ha dimostrato quello che la categoria dice da tempo, non siamo untori, non vogliamo essere considerati causa di contagio perché i veri rischi sono altrove. Numerosi esercenti di locali pubblici hanno portato la loro diretta testimonianza tra gli slogan che hanno definito assassino il governo, ma in generale l'iniziativa si è svolta in un clima pacifico esploso soltanto alla fine quando, come dicevamo, alcuni rappresentanti della categoria hanno scelto di bloccare la strada e di spostarsi in mezzo alle auto. Diciamo manifestiamo il nostro dissenso perché non ci ascolta nessuno, quello è il problema. Vorremmo semplicemente essere ascoltati che poi insomma siamo sicuramente convinti che se c'è il motivo della chiusura anticipata o della chiusura totale come probabilmente sarebbe anche forse opportuno nel caso di contagi così numerosi di come parlano va bene, però vogliamo essere almeno ascoltati per riuscire a manifestare le nostre idee, le nostre proposte, le nostre richieste. La nostra paura è quella di non fallire. L'emergenza sanitaria sicuro c'è perché non possiamo negarla, però noi abbiamo bisogno di avere delle certezze, di avere degli aiuti perché anche se dovessimo chiudere perché noi non siamo per un no lockdown, anzi noi vogliamo aiutare lo Stato, vogliamo dare questa emergenza per dare un futuro a noi e ai nostri figli. Quindi noi chiediamo aiuti alla Regione, allo Stato che ci dia la possibilità di poter andare avanti. Sì, purtroppo non se ne può più perché siamo arrivati a un punto che non c'è più ritorno perché se pensate che non ha fermato solo i ristoratori perché ha fermato tutta la, diciamo tutti quelli che giravano attorno alla ristorazione, fruttivendolo, mozzarella, tutto il resto e purtroppo domani allo Stato vanno mille persone, nei pullman ci sono le persone perché in un ristorante non possono andare quando tu hai messo tutte le precauzioni e hai messo tutto quello che era la norma che tu ci hai detto. Alle 11 di sera che lo fai a mezzanotte, un'ora in più, non cambia niente. Quello è il discorso. Ovviamente la categoria più colpita, come sempre, è quella dell'oreca, della ristorazione, del turismo in generale. Noi oggi manifestiamo qui per far sentire la nostra voce che si disperde e purtroppo nell'eco delle vittime dei casi, dei contagi che ci sono continuamente, noi siamo consapevoli di questo, che c'è un pericolo di fatto. Ovviamente non è che vogliamo negare le chiusure, fanno bene, se è così che deve andare siamo d'accordo. Però devono prevedere nei decreti e nelle ordinanze che vengono fatte dal Presidente del Consiglio, dal Governatore o da chi per essi, un ristoro per chi poi non può sostenere le famiglie, la propria famiglia e quella dei dipendenti. Perché è semplice chiudere, però poi si lasciano indietro delle persone. Noi siamo persone, siamo famiglie, siamo dipendenti. Ad oggi ancora non è arrivato quasi a tutti la cassa integrazione, i 600 euro, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo notato che da giugno a settembre ci sono state le elezioni, i politici le abbiamo visti, però poi che cosa hanno fatto in questo periodo per prevedere, perché questa seconda ondata era prevista, noi non abbiamo capito.